L'artista esistenzialista buona giornata a tutti, facciamo i complimenti, ho sentito l'ingraziamento di più in appienamento Andrea Barzagli, lascia Andrea Barzagli dopo minimo 8 anni credo, anni di vittorie, grinta, carattere, dedizioni, sacrifici, impegno, una persona molto umana, molto a modo, serie professionista, con Chiellini e Bonucci, è una delle difese meno battute, ricordo un anno era con l'atletico Gimenezze Codin in Europa, è una delle meno battute, Barzagli credo che entri nell'assetto societario della Juve dall'anno prossimo, sicuramente, però si perde tanto con la Muragna, nel senso che perdi una persona carisma, dispessore, impegno di perdizione, effettivamente sai, a trovarli questi difensori, 300.000 euro il costo del cartellino, di allora una inezia per certi versi, facciamo i complimenti a Andrea Barzagli, grazie Andrea.